Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. È mistero circa la morte di un 45enne rinvenuto cadavere intorno alla mezzanotte e mezza di ieri in Val Bodengo, una tra le vallate più occidentali del Chiavennasco, nell'area comunale di Gordona. Il rinvenimento del cadavere dell'uomo, del quale sono state diffuse le iniziali, C.C., presso i dintorni del ponte Pilotera. La chiamata di soccorso a mezzanotte 40, sul luogo del ritrovamento, gli agenti della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Madesimo, che erano stati attivati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Chiavenna. Il personale medico ed i finanzieri giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, sul corpo del quale, dalle prime indiscrezioni, non sono presenti segni di contusioni dovuti ad aggressione né fori da arma da fuoco. Bocche cucite, per ora, da parte degli inquirenti.